Con i fiori all'uncinetto si possono decorare dei bei cestini, questo cestino l'ho realizzato io con la rete in plastica e la rafia, se vuoi vedere il tutorial, giù nella infobox ho scritto il link e se ti interessa potrai andare a consultarlo. Passiamo ora al tutorial dei fiori. Ciao, oggi realizziamo tre tipologie di margherita, la prima piccolina con petali stondati e corti, la seconda con petali appuntiti e molto lunghi e la terza con petali grandi e tondi. Cominciamo con la prima, per realizzare queste tre margherite occorreranno due colori di filato differente, giallo e bianco. Cominciamo col giallo, sto utilizzando un filato numero 5 e un uncinetto numero 3, la prima margherita la realizzo partendo con un cerchietto magico, quindi il cerchietto magico si esegue in questo modo, prendo il filo, giro intorno alle dita, lo blocco, lo prendo in questo modo qui e faccio una catenella, ecco qua, questo il cerchietto magico, perché stringe e allarga, una sorta di piccolo cappio, inizio il lavoro con 3 catenelle, le prime 3 catenelle sostituiscono sempre il primo punto alto o prima maglia alta, proseguiamo con 16 maglie alte, all'interno del cerchietto 1 2, 15 e 16, chiudo con una maglia bassissima o punto bassissimo sulla terza catenella eseguita, per restringere il foro tiro il filo in eccesso e il foro centrale sarà quasi invisibile, allora il corpo centrale della margherita è stato fatto, adesso facciamo il cambio del colore del filo e proseguiamo alla realizzazione dei petali, iniziamo con 4 catenelle 1, 2, 3, 4, proseguiamo con 2 maglie alte doppie su ciascuno dei due punti alti fatti nel giro precedente, senza chiuderle, ma le chiudiamo tutte insieme, in questo modo, punto e realizzo il primo punto alto doppio, non lo chiudo definitivamente, eseguo il secondo punto alto doppio nella maglia alta successiva, ora chiudo tutto insieme, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto bassissimo, nel punto dove abbiamo realizzato, l'ultimo punto alto doppio, quindi entro nello stesso punto e realizzo la maglia bassissima, questo è il primo petalo, proseguiamo nello stesso modo, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, due maglie alte doppie, 1, senza chiuderle, chiuderle insieme, 2 e chiudo tutto il lavoro, 4 catenelle, 1, 2, 3, puntando nello stesso punto dell'ultima maglia alta doppia, realizzo un punto bassissimo, ecco il secondo petalo, così fino alla fine del giro, questa è la prima margherita, passiamo al motivo numero 2, anche con il secondo motivo partiamo con un cerchietto magico, fare una catenella e realizzare 6 maglie basse all'interno del cerchietto, 1, 2, 5, 6, tiro il filo e stringo, chiudere il cerchio con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa, anzi no sulla catenella che abbiamo eseguito, questo è il primo giro, per il secondo giro, per il secondo giro una catenella e 2 maglie basse su ogni maglia bassa eseguita in precedenza, quindi punto sulla prima e ne eseguo due, due su ogni maglia bassa, chiudo dopo un totale di 12 maglie basse, chiudo con una maglia bassissima sulla catenella realizzata precedentemente, a questo punto per fare i petali cambio il colore del filo, inserisco il bianco, eseguo 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una maglia bassa nella seconda catenella dell'uncinetto, cioè nella penultima, questa è l'ultima, questa è la penultima, quindi eseguo una maglia bassa, punto con l'uncinetto, prendo il filo e chiudo la maglia bassa, questa è la punta della margherita, del petalo della margherita, ora proseguo con una mezza maglia alta nella catenella seguente, punto nella catenella, punto nella catenella e chiudo tutto insieme, questa è la mezza maglia alta, punto nella catenella, proseguo con 4 maglie alte nelle successive 4 catenelle, 1, 2, 2, 3, 4, eseguo una mezza maglia alta nella catenella successiva, concludo il petalo con una maglia bassa, nella prima maglia, nel primo punto disponibile del filo giallo, questo è il primo petalo, proseguo di nuovo con 9 catenelle, una maglia bassa nella penultima catenella, una mezza maglia alta nella catenella, una mezza maglia alta nella successiva, quattro maglie alte, oltre mezza, due, 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 quattro, una mezza maglia alta, due, alta, una maglia bassa nel punto disponibile sul filo giallo e questo è il secondo petalo e così facciamo tutto il giro questo è il secondo modellino di margherita passiamo al terzo con il filato giallo eseguo un cerchietto magico eseguo 3 catenelle all'interno del cerchio eseguo 15 maglie alte 1 termino con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle proseguo con 2 maglie basse in ogni punto sottostante quindi parto con una catenella 2 punti bassi in ogni punto successivo per un totale di 30 punti bassi e chiudo con un punto bassissimo cambio filo inserisco il filo bianco ed eseguo 16 catenelle con un filo bianco con un filo bianco per un filo bianco ed eseguo tre maglie bassissime sulle tre successive e di nuovo 16 catenelle salto un punto di base sul successivo, la maglia bassissima, un'altra ed infine la terza vado avanti così fino a fine giro proseguo lavorando all'interno della delle 16 catenelle e devo eseguire quattro mezze maglie alte, quindici maglie alte e di nuovo quattro mezze maglie alte quindi quattro mezze maglie alte 1 2 3 2 4 15 maglie alte 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 quattro mezze maglie alte 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 8 9 9 5 8 9 9 10 10 11 9 10 10 11 11 11 11 12 11 11 12 11 12 12 quindi 1, 2, 3 e 4 stessa lavorazione che abbiamo eseguito per il primo petalo, tutto questo fino a giro ed il fiore è fatto, il terzo modellino di margherita è concluso, basterà nascondere i fili e il gioco è fatto con questo è tutto, ciao a presto